Ciao! Torniamo a vedere le maglie delle squadre di calcio dei prossimi mondiali in Qatar. Questa è la seconda maglia della Francia in edizione FAN, la maglia pensata per i tifosi. Il kit da trasferta della Coppa del Mondo Nike Francia 2022 vanta un design unico con una grafica che rappresenta momenti iconici della storia della Francia. La maglia combina una base bianca con il blu reale, white and game royale. La caratteristica eccezionale è una stampa grafica con momenti iconici e punti di riferimento del paese Francia. Include l'arco di trionfo, scende dalla rivoluzione, ma anche una mucca. In basso a sinistra e a destra della maglia ci sono i colori della bandiera della Francia. Ovviamente la maglia da trasferta si basa sul modello della Coppa del Mondo Nike 2022. La Francia ha avuto solo divise bianche da trasferta negli ultimi dieci anni, tranne nel 2013. Questa maglia è decisamente particolare, con tutti questi momenti della storia francese ha un suo fascino. Nella mia classifica questa prende tre stelle, una maglia fatta decisamente bene, però che non ha attirato, diciamo così, la mia attenzione. Qui in alto trovate il prezzo, su questo non aggiungo niente se non chi è veramente un prezzo molto basso. Peraltro ha avuto questa maglia anche dei tempi di consegna molto veloci, è arrivata in 18 giorni. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e potete trovare anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete spendere poi sul sito. Ora vi lascio alla parte finale in cui vedrete la vestibilità e le misure. Se il video vi è piaciuto vi prego di lasciarci un like e iscrivervi al canale. Fatemi anche sapere quale altre recensioni vorreste vedere in futuro. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Grazie a tutti!